Due minuti soli, io vi racconterei dell'annata del nuovo presidente degli Stati Uniti, eletto lo scorso gennaio in sostituzione di Trump, è stato eletto democraticamente Joe Biden, Joe Biden, il quale detiene un grande primato, è il presidente più anziano che sia mai stato eletto negli USA, in netta controtendenza con la media dell'età dei suoi predecessori mi spiego meglio, ci sono stati molti presidenti precedenti a Joe Biden, giovani, molto giovani, il più giovane di tutti fu Theodore Roosevelt che ricoprì la carica a 42 anni, noi ancora prendiamo il rettito di cittadinanza, nel 1901 già quello diventò presidente degli Stati Uniti, straordinaria sta cosa, e meritò il Nobel per la pace, sì, perché lui aveva messo fine con le sue parole alla guerra fra Russia e Giappone, Roosevelt. Un altro presidente giovanissimo degli Stati Uniti d'America fu GFK, John Fitzgerald Kennedy, eletto a soli 43 anni nel 1960, difensore dei diritti dei neri d'America, che poi, poveraccio, ha fatto una brutta fine, ma lui li difese fino alla fine. O ancora, nel 1993, venne eletto un altro presidente giovane, anche bello, che era Coso, quello, presidente giovane, quello, quello alto, quello un po' imbiancato, quello alto, quello che era giovane, quello che le donne gli correvano appresso col materasso, Coso, quello, Coso, non mi viene il nome, quello che stava seduto alla scrivania, che stava sempre così, quello che lui stava sulla scrivania e sotto la scrivania c'era la cosa, quell'altra, quella, quella che, Clinton, eccolo là, Clinton, oh, ce l'avevo sulla punta della cosa e non mi veniva, mannaggia la pupazza, Clinton, 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 che lei, lui ha detto che, lui ha detto, ha giurato che, questo è stato grande sospetto, grande scandalo, perché lui ha detto di, mi si è in disaccordo un po' tutti, mi si è in discussione, l'attendibilità di Clinton in quanto presidente questa cosa, perché giurò al gran giurì, lui, giurò al gran giurì, giurì in giurello, le cose ha detto, guardi, signor presidente, signori della corte, pare, pare brutto, ma quello orale non è sesso. E noi italiani, soprattutto i maschi, ci siamo chiesti, e fino adesso noi sulla salaria perché abbiamo pagato, perché cosa? Alcuni addirittura sono ritornati sulla salaria e si sono fatti dare i soldi indietro. Tu non mi hai fatto sesso. Sono inconvenienti questi che possono capitare quando un presidente è così giovane, hai tanto, è bello, è piacente, capisci? In questo senso Biden è molto avvantaggiato, perché metti caso che lui lì nella stanza ovale, con la scrivania, una cosa in altra, metteci in leva, lo beccano con una donna sotto la scrivania, nessuno griderà allo scandace, al massimo dirà, non vi preoccupate, è l'infermiera che sta cambiando il pannolone, per dire, oh, per carità, può essere. Però, malgrado l'età, il presidente, diciamo, democratico per eccellenza, è sempre in giro. Biden è sempre in azione, gagliardo sempre pronto a salire su un aereo, il primo aereo, il suo, l'Air Force One, lui prende e va, e sale. Va, oddio, non è che va proprio, c'è fuor tempo suo, perché Joe Biden si è addobbato già tre volte per salire su l'Air Force One, lui vedi, cammina, gliela fo, gliela fo, 32, 33, vai, eh, 30, eh, calla, davanti al mondo intero, l'immortale... Chissà chi avrà, chissà chi avrà detto in americano, sto cazzo di mascherina, l'immortale, guarda, ci posso, lascia, 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 ma perché non mi tradesco alle mobili, ma fa un culo, siamo il paese più ricco del mondo, fate un cazzo d'ascensore, chissà chi avrà detto così. Ma comunque, Joe, Joe Biden, l'importante non è cadere, è rialzarsi per poi cadere, perché è caduto tre volte, ma noi stiamo parlando dell'uomo più importante del mondo, colui che ha nelle sue mani, tremanti, le sorti del globo e che come tutti i più grandi della Terra ha partecipato recentemente al COP26. Dice che è, non è COP, dice, COP, quello del poliziotto, ma Robocop, no, COP26 era una conferenza delle Nazioni Unite sul clima mondiale che si è tenuto a ottobre in Scozia, dove si è parlato, tra le tante cose, di ridurre i gas serra e il gas metano. Ma Biden era l'ospite più atteso, non ha perso l'intervento, hanno parlato tutti, ognuno nella propria lingua, lui è assistito a tutti i lunghi discorsi fatti per l'importanza di ridurre questi gas e quindi poi, siccome erano tante le nazioni, a una certa ora dice, dai, maniamose una cosa e riprendiamo da dove abbiamo lasciato. Quindi, tra una chiacchina e un'altra, hanno mangiato, poi hanno ripreso, erano le due, due e mezza di pomeriggio, il tipico buffet in Scozia non è proprio light, light, perché se vai in Scozia ti mangi la carne stufata, perché la carne pure è lì, stuface, madonna mia, sempre le stesse cose, a ringhe, a ringhe, a ringhe porridge, porridge, che sarebbe, porridge è buonissimo, perché è porridge e se tu lo vedi così dici, madonna mia che è, invece se tu proprio lo assaggi, senti che è un pappone di avena e frutta, che è buonissimo, e poi per finire proprio una ammazzata proprio sullo stomaco, è il black pudding, non sei, guardi, il black pudding, mamma mia, e lo fanno, ma se sciala, cioè, ci fai la scarpetta col bel pudding, ti metti lì, piano piano, perché è grasso di maiale, avena ed erbe, fumate, pensa, tu finisci un vassoio di black pudding e te ricrea proprio, ti metti, roba dell'altro monno, ora capite bene che non è facile digerire tutte queste cose per un ventenne, figurate per un 79enne, poi metteci pure, che faceva freddo in Scozia, però la sala conferenze era bella tiepida, lui aveva la copertina sulle ginocchia e lì, tra una cosa e un'altra, metteci a levato e Biden, con tutte quelle cose magnate sullo stomaco anche per fare bella figura, dopo un po', una cert'ora, due e mezza, tre meno un quarto, si è messo così e si è accoffato, come si dice in inglese, si è accoffato, si è abbioccato, si è appennicato, gli è venuta una botta di cegagna, si è addormentato, eccola là, si è addormentato, l'uomo più potente del monno ha chiuso l'occhi e buonasera, chiaramente tutti quanti, tutti quanti stavano a finire il discorso, tutti quanti, i cinesi, tutti quell'altro, i russi, tutti a dire, ma, si è addormentato, tutti a dire, oh mamma mia, mo che lo sveglia, io no, ma che si è matto, è arrivato lo svegliatore del presidente, vedi, lui si è abbioccato, senza farsi notare, è arrivato questo, e io dico, si è il presidente, si è il presidente, un'altri cinque minuti, vedi, un'altri cinque minuti, si è il presidente, si è il presidente, si deve svegliare, stanno a parlare i cinesi, no, no, tanto si capisce, parlo tutti insieme, sai, quelle cose così che dicono i presidenti, la cosa ha destato scalpore, tant'è vero, se vedi, vedi quella dietro, quella dietro, quella sta al telefono, ah, ragà, non potete capire, c'è Biden che si è abbioccato, non posso fare foto che pare brutto, poi ti racconto quando vengo a casa, diciamo una cosa che è una cosa che ha destato scalpore in tutto il mondo, moltissimi si sono indignati, l'hanno addirittura soprannominato Sleepy Joe, cioè Joe Dormiglione, che è una sorta di pupazzo peluche che dorme, diciamo, dopo la gaff così importante della pennichella, incresciosa, la moglie, la signora Biden, un po' piccata, ha preso il marito e gli ha detto, my love, ma che, what is true, ma che davvero davvero, gli ha detto, Joe, listen to me, Joe, oh Joe, te sto parlando, non ti cinque minuti, no, Joe, you be careful, devi fare attenzione, my love, pay attention, please, you make me, you make me do a pericotto figure, mi hai fatto fare una figura da pericottaro, please, please, io sono venuto a chittà, sta a accompagnare, accompagnare te, e tu ti abbiocchi, ti addormenti, my love, please, non hai capito, devi stare sveglio, stanno parlando delle sorti del pianeta, parlano di ridurre i gas serra, hai capito? Resta sveglio, sì, sì, drink more coffee, coffee, go, go, coffee, caffè, caffè, coffee, 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 e Biden, alla moglie, gli ha dato retta, perché tu puoi essere pure il presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente della Terra, ma se tu moglie ti dice una cosa, tu la devi fa', punto. E infatti, il